Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo così giunti alla terza e penultima puntata dedicata alle dichiarazioni di Massimo Sparti, in altre parole al primo dei cosiddetti quattro chiodi, ovvero quegli indizi che hanno portato alle condanne all'ergastolo definitive dei NAR Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini ed in itinere di Gilberto Cavallini per la strage alla stazione ferroviaria di Bologna del 2 agosto 1980. Sparti, due giorni dopo il suo arresto, avvenuti il 9 aprile 1981, mise a verbale di aver ricevuto nel primo pomeriggio del 4 agosto la visita di Francesca Mambro e di Valerio Fioravanti e la richiesta da parte di quest'ultimo di procurare urgentemente documenti falsi per Francesca, la quale temeva di essere riconosciuta, sottintendendo una loro presenza a Bologna la mattina del 2 agosto. Hai visto che botto? Con l'avvocato Alessandro Pellegrini, che fin dal primo processo si è occupato della vicenda, difendendo dapprima Massimiliano Facchini, poi Ciavardini e ultimo Cavallini, prosegue la disamina degli elementi d'accusa, evidenziando le tante incongruenze e contraddizioni che minano seriamente la credibilità di Sparti, le cui dichiarazioni, va sottolineato, costituiscono le fondamenta dell'intero impianto della matrice fascista per la strage. Ascoltiamo quindi con attenzione questo nuovo capitolo che, se possibile, aggiunge ulteriori elementi di perplessità sulle decisioni e conclusioni finali dei magistrati bolognesi. Nel video precedente abbiamo parlato dei documenti della Mambro, dei documenti falsi che la Mambro ha effettivamente utilizzato nel corso della sua latitanza, nessuno dei quali è ascrivibile all'opera di Massimo Sparti. Ci si arriva in via logica esaminando le carte, leggendo le dichiarazioni dei soggetti, dei personaggi coinvolti in questa vicenda. abbiamo detto che Sparti, dopo aver indicato in prima battuta in Mario Ginesi la persona, il falsario a cui lui si sarebbe rivolto per avere questi documenti, alla smentita di Ginesi che in un confronto dice assolutamente, tu non mi hai mai chiesto documenti per nessuno e tantomeno nell'agosto del 1980, rigetta interamente l'accusa, a quel punto Sparti capisce che deve cambiare. E al posto di Ginesi fa il nome di De Vecchi, Fausto De Vecchi, persona conosciuta dallo Sparti perché insieme combinavano disastri, nel senso che commettevano reati, avevano anche commesso una rapina insieme nella casa dei coniugi Barone a Roma nel febbraio del 1980, insieme con Cristiano Fioravanti e Valerio Fioravanti. Quindi era suo complice, suo coimputato in quella vicenda giudiziaria particolarmente delicata. Lo stesso De Vecchi era anche accusato di reati associativi di carattere politico, proprio per la sua partecipazione a quella rapina. De Vecchi viene interrogato, nega di avere mai ricevuto incarichi da Sparti per falsificare, per procurarsi documenti falsi intestati a una donna e dopo due anni, nel 1983, due anni dalla sua prima dichiarazione in merito, che è del 1981, ma ne abbiamo parlato l'altra volta, dopo due anni. Nel maggio del 1983, interrogato dal giudice istruttore di Bologna, che gli chiede come ha fatto a procurarsi documenti falsi che gli erano stati richiesti con quell'urgenza da Sparti. Sappiamo che Sparti dice, sono venuti da me il 4 agosto alle 15, dopo pranzo, Mambro e Fioravanti. Fioravanti, con estrema violenza e minacciandomi di farmela pagare cara a me, al figlio, a tutti quanti, mi ha chiesto con estrema urgenza due documenti falsi per la Mambro, una carta di identità e una patente, io me li dovevo procurare immediatamente, mi dovevo scapicollare, dovevo a tutti i costi, nel più breve tempo possibile, procurarvi questi due documenti. Dice Sparti, nella sua prima versione di questi fatti, Sparti si conferisce continuamente, è incoerente nelle sue dichiarazioni, anche per questo non è credibile. Sparti, l'11 aprile del 1981, dopo essere stato due giorni alla Digos di Roma, espone, dice questa, espone, questo, questo, indica questo episodio e dice appunto che la visita venne il 4 agosto del 1980, parlando di un anno prima, quindi le ordine avrebbe dovuto essere fresche in quel momento, alle 15 dopo pranzo. In altri successivi interrogatori poi cambierà, dirà no è stato la mattina verso le 10, insomma in ogni caso il 4 agosto o la mattina o nel primo pomeriggio, come dice Sparti, o la mattina come dice lo stesso Sparti, in altri, davanti ad altri giudici e in altri interrogatori sostenuti, riceve questa richiesta così pressante. Si mette in contatto con Ginesi, dice Ginesi smentisce, allora ricorre a De Vecchi. Le dichiarazioni di De Vecchi le abbiamo valutate, le abbiamo parlato diffusamente la volta scorsa. Nel 1983, cioè due anni dopo le prime dichiarazioni, De Vecchi dice io mi sono rivolto per questi documenti falsi a un certo Zibibbo. De Vecchi non è un falsario, non è in grado di fare documenti falsi, allora deve rivolgersi a un falsario. Zibibbo chi è? Mi chiedono tutti i giudici, magistrati, come si chiama Zibibbo? Ah non so come si chiama, è un falsario noto come Zibibbo, io lo conosco soltanto come Zibibbo. Ripete sempre di non conoscere le generalità di Zibibbo, lo dice anche nel 1997, quindi molti anni dopo, all'udienza del 15 luglio del 1987 nel processo Ciavardini. Gli viene chiesto sia dal pubblico ministero che poi dalla difesa di Ciavardini quale fosse il nome e il cognome di Zibibbo e lui dice non lo so, non l'ho mai saputo, lo conoscevo soltanto come Zibibbo. Allora a quel punto gli si chiede come potesse arrivare a contattare Zibibbo. Noi dobbiamo partire sempre avendo presente la situazione del 4 agosto 1980. Sono iniziate le ferie, le città si svuotano, anche Roma almeno in gran parte si sarà svuotata senz'altro per le vacanze di agosto e in fretta e furia, secondo racconto di Sparti, Sparti deve procurarsi due documenti falsi da dare più avanti. E in effetti gli consegna o la sera del 4 una versione di Sparti oppure la mattina dopo. Altra versione di Sparti, le abbiamo parlato la volta scorsa. E non è facile procurarsi due documenti falsi in questo lasso così breve di tempo, perché si deve rivolgere a De Vecchi. Dov'è De Vecchi? E a Roma? All'epoca non c'erano i telefonini. O li telefonavi a casa o li telefonavi sul luogo di lavoro sperando di trovarlo. Quindi De Vecchi ha dovuto in un modo o nell'altro essere reperito da Sparti. Sparti trova De Vecchi, siamo sempre nell'ottica usatoria, ragioniamo sull'ipotesi dell'accusa. Sparti riesce a trovare De Vecchi e De Vecchi a quel punto deve trovare un falsario, una cosa non facile. E a chi si rivolge? A Zibimbo. Ma lui non sa chi sia Zibimbo. Come fa a rivolgersi a una persona di cui non conosce il nome e il cognome? Non c'erano i cellulari, lo ripeto, eh? Cioè a quell'epoca o si andava direttamente dalla persona, lo si trovava a casa, sul luogo di lavoro, per strada, per avventura, oppure si andava all'abitazione, ma per andare all'abitazione deve riconoscere il suo nome cognome. E lui ha sempre detto di non averlo conosciuto, quel nome. Però lo trova, secondo lui. E vediamo un po' che cosa ci dice Zibimbo, perché Zibimbo è stato identificato dalla polizia dopo essere stato citato nel maggio del 1983 da De Vecchi. Zibimbo era un cognome noto nell'ambiente come falsari. Il suo nome era, ed è, perché credo che sia ancora vivo, Giuseppe Carlo Stella, il quale viene subito convocato dal giudice. Il 30 giugno del 1983 compare davanti al giudice istruttore. Comparirà anche davanti alla corte di Assise di Bologna nel primo dibattimento della strage nel 1987. In quella sede davanti alla corte di Assise di Bologna, tutto è su Radio Radicale, se uno che volesse andare a sentire l'udienza e ad ascoltare la voce di Carlo Stella, in quella sede gli verrà letto il verbale, allora si poteva fare con il codice di allora, lui confermerà il verbale, nessuno gli farà domande e dopo otto minuti sarà congedato. Carlo Stella che cosa dice al giudice istruttore? Dice che effettivamente lui fa il falsario e senza lavoro e allora per campare falsifica documenti, prende 30.000 lire a ogni documento, dice che il suo posto di lavoro, il luogo dove lui operava, era un bar sito in via Palmiro Togliatti. È molto vago. Via Palmiro Togliatti è una grande strada di Roma, che è lunga 8 km all'incirca, 8-9 km e che collega la via Toscolana con la via Tiburtina, Cinecittà insomma, vicino a Cinecittà. Zona est di Roma, attraversa la città da nord a sud. Bene, mettiamoci nelle vesti di De Vecchi. De Vecchi deve trovare Zibibbo. Come fa a trovarlo se non conosce il nome, il cognome e l'abitazione? Ci lo dice lui che non conosce il nome. Deve andare, non so dove, nel bar dove questo Zibibbo operava, sperando che il bar sia aperto, 4 di agosto, ma sperando soprattutto di trovare Zibibbo, perché Zibibbo non penso che stesse lì dalla mattina alla sera, avrà avuto anche altre cose da fare. E tutto questo nell'arco di meno di 24 ore. Perché se accediamo alla prima versione di Sparti, incontro, 4 agosto, Mambro e Fioravanti alle 15 e poi consegna la mattina successiva alle 10, sono meno di 24 ore. In meno di 24 ore queste persone avrebbero dovuto trovarsi, contattarsi fra di loro, redigere i documenti Zibibbo, consegnarli a Devecchi, Devecchi li consegna a Sparti e Sparti li consegna a Fioravanti. La domanda ovvia che si fa a Devecchi è come diavolo ha fatto a contattare Zibibbo, visto che non conosceva il suo nome e il suo cognome. Ed è la domanda che noi facciamo, la difesa, i difensori di Ciavardini, all'udienza del 15 luglio 1987, fanno a Devecchi che compariva come persona da esaminare insieme con gli Sparti. Come ha fatto a contattare Devecchi il 4 agosto? E lui risponde, non me lo ricordo. La difesa, dice a Vardini, insiste, non lo ricorda? Il 4 agosto no, non lo ricordo. Cioè lui non ci dice in quale modo ci ha riuscito a contattare Zibibbo. Non ce lo dice. Dice non lo ricordo. Conferma anche in quella sede di non avere conosciuto mai il nome e il cognome di Zibibbo e di non ricordare come ha fatto a contattarlo. Andiamo a leggere quello che dice Zibibbo nel 1983. Ripeto, Zibibbo ammette di essere un falsario, che il suo posto di lavoro è un vario sito in via Palmino Togliatti. Gli si chiede, è vero o non è vero che nel 1980, nel mese di agosto, un signore chiamato Fausto Devecchi le ha chiesto due documenti falsi? Lei ha fornito due documenti falsi in quel periodo al signor Fausto Devecchi? E lui risponde dicendo, io non me lo ricordo assolutamente. A causa del tempo trascorso non ricordo il fatto. In effetti io facevo di mestiere questa attività e fornivo documenti a chiunque me ne facesse richiesta. Non posso dunque ricordare un documento in particolare. Quindi non ricorda di avere fornito a Fausto Devecchi due documenti falsi all'inizio di agosto del 1980. Non escludo dunque di avere potuto fornire due documenti al Devecchi, ma non posso neppure confermarlo. Punto. Questa è la risposta di Zibibo. Più avanti Zibibo dice, effettivamente il mio nome e cognome nell'ambiente non lo conosceva nessuno. E tutti mi conoscevano solo come Zibibo. Io stesso non conosco i nomi delle persone che trattavano con me. Al massimo posso conoscerli di vista se si tratta di clienti abituali. Non credo invece che potrei ricordare una persona vista una sua volta. Quindi, Zibibo in realtà non conferma il racconto di Devecchi. Dice, io non mi ricordo nulla. Non mi ricordo assolutamente. Non me lo ricordo. Io ne facevo talmente tanti di documenti falsi che faccio a ricordarmelo. Non ricorda di avere mai conosciuto Fausto Devecchi. E questa è un'altra cosa significativa. E dice, guardate che le persone che mi venivano a chiedere i documenti falsi non mi dicevano il loro nome e cognome, né io glielo chiedevo. Non mi interessava, non mi importava, mi pagavano 30.000 lire. E io davo il documento falso. Questo è tutto. La cosa fondamentale in una ricostruzione controfattuale dell'ipotesi d'accusa che è quella che bisogna fare per verificare la portata, la credibilità dell'accusa stessa è quella appunto di vedere quali e quanti ostacoli avrebbero potuto incontrare Sparti, Devecchi e Zibibo a fare tutto quello che l'accusa attribuisce loro in uno spazio di nemmeno 24 ore. Non ce l'hanno raccontato. Zibibo ha detto non mi ricordo nulla. Chiuso il discorso. E Devecchi che è stato quello che ha fatto il nome di Zibibo alla domanda precisa risponde io non mi ricordo come ho fatto a contattare Zibibo. cosa molto se il fatto fosse vero se lui avesse realmente contattato Zibibo come potevano ricordare come ha fatto a trovarlo Zibibo in che posto è andato in che posto è andato come ha fatto a sapere che era ancora Roma a parlare con lui a chiedergli i documenti e a ritirarli i documenti come è possibile che non abbia ricordo di questo non ce l'ha perché il fatto non è mai avvenuto. Zibibo è un nome che lui ha trovato nella sua testa come persona conosciuta nell'ambiente per essere un falsario ha fatto questo nome perché doveva per forza dire a chi si era rivolto per procurarsi i documenti falsi e quindi la questione Sparti De Vecchi si crue qua nel senso che la persona indicata da Sparti come colui che gli ha fornito i documenti De Vecchi non è in grado di saperci dire come ha fatto a contattare la persona a cui lui a sua volta si è rivolto per avere i documenti stessi. La fonte accusatoria fondamentale per l'affermazione della responsabilità delle persone condannate per la strage del 2 agosto 1980 a Bologna Fioravanti Mambro Ciavardini e sia pure consentenza non ancora definitiva Gilberto Cavallini la fonte fondamentale di responsabilità è stata attribuita alle parole alle dichiarazioni di Massimo Sparti di cui abbiamo già parlato le volte precedenti adesso approfondiamo ancora la disamina di queste dichiarazioni perché è importante farlo perché io vorrei che coloro che ascoltano questi interventi si rendessero conto della qualità della portata sotto un profilo critico e probatorio delle dichiarazioni di Sparti diamo uno sguardo accurato acribico cioè meticoloso puntuale completo alle fonti accusatorie facciamo quello che fanno gli storici quando gli storici devono approfondire un argomento vanno in prima persona a verificare le fonti senza riportarsi a quello che hanno scritto altri storici prima di loro perché questo è il compito che ogni soggetto che affronta un argomento a cui non ha assistito deve il compito che deve assolvere se vuole farsi un'idea una valutazione propria di un determinato avvenimento abbiamo detto che le dichiarazioni di Massimo Sparti non sono le dichiarazioni di un testimone Sparti era un imputato di reato connesso quindi un soggetto che anche per il diritto il codice di procedura penale deve essere valutato con una particolare attenzione e che ha bisogno per poter essere creduto di riscontri esterni alle sue dichiarazioni abbiamo detto che i parametri cui deve ancorarsi il giudice nel valutare le dichiarazioni di un soggetto come Sparti sono quelli della precisione della concretezza della costanza della spontaneità delle dichiarazioni nel tempo se io dico la verità dirò sempre la stessa versione non avrò nessuna nessun interesse a modificare la mia versione se quella è la verità dirò sempre i fatti nello stesso modo se è la verità se non è la verità ma è una ricostruzione di comodo per i più svariati motivi io corro il rischio nel corso delle varie occasioni in cui sarò costretto a ripetere la mia versione dei fatti corro il rischio di sbagliare di contraddirmi di andare in contraddizione con me stesso perché posso anche non ricordare quello che ho detto la volta precedente perché quella che io dico non è la verità ma è una verità artefatta una verità mistificata una verità inventata abbiamo visto che Massimo Sparti dice di avere ricevuto il 4 agosto del 1980 alla visita di Fioravanti e della Mambro e di essere stato minacciato da Fioravanti affinché in tempi brevissimi ad Oras fornisse dei documenti falsi a Francesca Mambro una patente e una carta d'identità si è contraddetto più volte sul tipo di documenti che avrebbe dovuto fornire alla Mambro su pressante invito di Fioravanti una volta dice una carta d'identità e una patente con le generalità in bianco la volta successiva dice che invece le generalità gli erano state indicate ma che lui non li ricordava ma non c'erano i numeri di serie insomma fa una serie di dichiarazioni in contrasto le une con le altre ne abbiamo parlato l'ultima volta ad ogni modo la versione che poi è stata ritenuta veritiera dai giudici al punto di condannare con sentenza definitiva Mambro e Fioravanti e per relazione anche gli altri due Ciavardini e Cavallini e poi spiegheremo perché Cavallini e Ciavardini sono stati condannati come esecutori materiali anche se non si sa con quale ruolo per la strage alla stazione del 2 agosto ne parleremo più avanti sappiate che le posizioni di Ciavardini e di Cavallini sono intimamente meccanicamente io dico legate a quelle di Mambro e Fioravanti poiché i quattro dicono di essere rimasti assieme la mattina del 2 agosto del 1980 ma non a Bologna a Padova quindi in tutt'altro luogo d'Italia però visto che i due sono stati condannati per la strage allora vuol dire che anche gli altri due erano insieme con loro a Bologna questo è il meccanismo logico molto precario che ha costituito la base di queste sentenze ne parleremo dopo adesso andiamo proprio alla fonte del racconto di Sparti Sparti dice il 4 agosto sono venuti da me e mi hanno minacciato dicendomi che erano passati per Bologna dice Fioravanti che aveva paura che la Mambro fosse stata riconosciuta le aveva fatto tingere i capelli che aveva bisogno di documenti urgentissimi per la Mambro perché lei non disponeva di documenti falsi fino a quel punto si era sempre registrata negli alberghi o nei luoghi dove era necessario farlo con i propri documenti però dopo il 2 agosto c'era necessità che anche la Mambro avesse dei documenti falsi allora Sparti dice io ho fatto mi sono dato da fare e sono riuscito ad ottenere questi documenti falsi per Francesca Mambro che ho consegnato ai due la mattina del 5 agosto 1980 ricordiamoci che il pomeriggio del 5 agosto 1980 i NAR Mambro Fioravanti Cavallini Soderini e altre persone fanno una rapina a un'armeria a Roma in piazzale Menemio Agrippa dove e la fanno a viso scoperto la Mambro viene la Mambro partecipa attivamente e tiene sotto il mirino della propria pistola i visitatori con loro i clienti che si trovavano nell'armeria al momento della rapina la rapina è durata parecchi minuti tutti costoro hanno visto la ragazza l'hanno descritta la sera stessa alla Digos e nessuno di loro ha notato che la ragazza avesse i capelli tinti come aveva detto come avrebbe detto un anno dopo sparti tinti colorati di rosso capelli color melanzana i capelli della ragazza erano quelli classici della Mambro con i suoi capelli naturali castano chiari fatto sta che la sentenza che ha condannato all'ergastolo Mambro e Fioravanti su questo punto specifico quello cioè della dazione dei documenti di sparti a Mambro e Fioravanti la mattina del 5 agosto 1980 oppure la sera del 4 agosto perché anche qui sparti si contraddice costantemente ma pigliamo per buona la versione che i documenti sarebbero stati consegnati a Mambro e Fioravanti la mattina del 5 agosto 1980 su questo punto specifico la sentenza passata in giudicato che ha condannato Mambro e Fioravanti prende una topica ma in punto di fatto una topica assolutamente indubitabile cioè fa un errore e l'errore è questo dicono i giudici della corte di assise d'appello in sede di rinvio del 1994 che alla pagina 151 della loro sentenza dicono ah ecco vedete la sera del 5 agosto del 1980 la Mambro e Fioravanti alloggiano in un albergo di Roma un albergo importante famoso l'hotel Cicerone vicino alla corte di Cassazione vicino a Piazza Cavour a Roma ecco possono alloggiare in quell'albergo perché hanno entrambi i documenti falsi ce li ha anche la Mambro la sera prima nella notte fra il 4 e il 5 agosto hanno dormito a casa della nonna di Soderini questi terroristi finanziati da Licio Gelli e della P2 pieni di miliardi sono costretti per dormire e andare a trovare un posto un letto a casa della nonna di Soderini ma invece il 5 agosto forniti dei documenti falsi e beh allora anche la Mambro fornita dei documenti falsi possono finalmente scendere triunfalmente all'hotel Cicerone e registrarsi con i documenti falsi alla pagina 151 della sentenza del 16 maggio del 1994 la corte di Assisa d'Appello di Bologna dice leggo è facile a questo punto rilevare che il racconto dello Sparti secondo cui egli ricevette la richiesta il giorno 4 ma fu in grado di consegnare il documento solo la mattina del 5 collima perfettamente con l'accettato comportamento tenuta dall'imputata il 4 e il 5 agosto in vero la Mambro scelse di trascorrere la notte del 4 nella casa di un amico la nonna di Soderini dove ovviamente non doveva mostrare alcun documento e si fidò ad andare in un albergo dove era necessario esibire una carta d'identità solo la notte del 5 una volta acquisito il documento falso questa è la prova il riscontro alla veridicità del racconto di Massimo Sparti fino al 5 mattina non avevi documenti e quindi non poteva andare in albergo non potendo dichiarare le proprie effettive generalità ma dalla sera del 5 in avanti il documento ce l'aveva e va tranquillamente in albergo con con Fioravanti ora purtroppo questo errore adesso vi dirò perché è un errore un errore proprio materiale un errore di fatto trascina anche il successivo giudizio della Corte di Cassazione e Sezioni Unite che qualche mese dopo 1995 prenderà questo argomento della Corte territoriale di Bologna della Corte di Cassazione e dice no ma sì questo allora è la prova che Sparti dice la verità perché la scansione cronologica dei tempi induce a ritenere che effettivamente sia vera la versione di Sparti non è così e basta leggere i registri dell'hotel Cicerone questi sono i registri dell'hotel Cicerone queste sono le pagine dell'albergo dal in tutto il mese di luglio e anche nel mese di agosto allora noi vediamo che il 5 agosto del 1980 subito dopo la rapina alla armeria di piazza Menemia Grippa Valerio Fioravanti con il falso nome di Flavio Caggiula residente a Milano in via Santa Marta numero 11 il documento falso di cui si serviva Valerio Fioravanti alloggia alla stanza 710 alla stanza 708 alloggia un tale Giovanni Bottacin nato a Treviso e residente a Treviso in via Luigi Sartorio Giovanni Bottacin non è altro che Gilberto Cavallini questi sono dati indubitabili accertati precipici era il documento fasso di cui si serviva Cavallini quindi Cavallini alloggia alla stanza 708 dal 5 agosto al 7 agosto 1980 mentre Caggiula Flavio cioè Valerio Fioravanti alloggia dal 5 al 7 agosto alla stanza 710 e la Mambro direte voi la Mambro non compare nei registi dell'albergo perché non compare perché come hanno sempre detto i due come ha sempre detto la Mambro la Mambro non avendo documenti falsi si introdusse clandestinamente senza farsi scoprire da nessuno nella stanza occupata da Valerio Fioravanti ecco perché non risulta nei registi dell'hotel cicerone perché se fosse vero quello che hanno ritenuto i giudici dovrebbe comparire in questi elenchi in questi tabulati il nome di una donna falso di cui si sarebbe dovuta servire alla Mambro per poter entrare in albergo per potersi registrare in albergo il documento falso fornitele la sparte e invece non c'è traccia di alcuna donna che possa essere identificata in Francesca Mambro quindi è vera la versione della Mambro che dice mi sono intrufolata nella stanza di Valerio senza che nessuno se ne accorgesse dal tono dell'hotel cicerone un grande albergo non è che stiano lì a controllare in modo minuzioso chi entra chi esce era un gioco da ragazzi fanno perché possiamo dire con certezza che nessun nome di questi tabulati può essere riferibile a Francesca Mambro basta vedere coloro che si sono registrati a partire dal 5 agosto e che sono andati via il 7 agosto ma quello che conta è la data di ingresso abbiamo visto che Caggiula sui fioravanti è entrato il 5 agosto Caggiula Flavio stanza 710 che Cavallini Giovanni Bottacini è entrato il 5 agosto stanza 708 poi se noi andiamo a scorrere il tabulato delle persone entrate in quella data non troviamo donne o meglio ne troviamo due di cui però le indagini hanno appurato l'assoluta non identificabilità con Francesca Mambro che sono due persone realmente esistenti due prostitute le quali hanno alloggiato nella stanza che era stata prenotata insieme con due persone arabe di cui abbiamo i nominativi ma che non è il caso di indicare queste due persone Ivana F. punto teniamo la sua la sua reputazione non facciamo nel cognome e l'altra Elena L. queste due signore hanno occupato due stanze con due persone arabe la 527 e la 529 ed erano due prostitute quindi nessuna di queste persone di sesso femminile che sono entrate e hanno alloggiato l'hotel Cicerone in quei giorni può essere identificato nella persona di Francesca Mambro Francesca Mambro ha avuto bisogno di dotarsi di documenti falsi nel mese di agosto del 1980 ma non perché si trovava a Bologna il 2 agosto 1980 ma perché il 28 agosto di quell'anno la procura della Repubblica di Bologna emette una serie di ordini di cattura carico di un numero considerevole di giovani romani estremisti di destra fra cui compareva anche Francesca Mambro il 28 ottobre Francesca Mambro era accusata di reati associativi non era accusata di strage l'ordine di cattura non riguardava la strage riguardava soltanto i reati associativi ma è solo da quel momento che Francesca Mambro ha bisogno di dotarsi di un documento falso e infatti è quello che accade accade questo perché risulta agli atti documentalmente che a partire dal settembre del 1980 la Mambro tutte le volte che scende in albergo insieme con Flavio Caggiula cioè Valerio Fioravanti esibisce la falsa patente intestata a una certa Morena Smania dal 6 al 13 settembre 1980 Morena Smania alla Mambro e Flavio Caggiula Fioravanti sono registrati all'hotel Jolly di Roma stanza 579 dal 18 al 19 settembre all'hotel Mediterraneo di via Cavour 15 a Roma stanza numero 1 e dal 19 al 26 settembre compaiono nei registri dell'hotel Jolly di Corso Italia sempre a Roma camera 412 quindi il primo documento falso utilizzato da Francesca Mambro è un documento falso utilizzato soltanto dalla fine di agosto a causa dell'ordine di cattura che era arrivato il 28 agosto e che viene utilizzato a partire dall'inizio di settembre ed è intestato a Morena Smania non può essere il documento asseritamente fornite alle da sparti perché chi è questa Morena Smania è una persona realmente esistente ed era una cliente dell'agenzia di viaggi della Sbroiavacca di Flavia della famiglia Sbroiavacca Flavia Sbroiavacca era la convivente la compagna di Gilberto Cavallini con cui aveva appena fatto un figlio nato nel luglio di quell'anno nato del 1980 la signora Morena Smania nel marzo del 1980 si recò a Treviso nell'agenzia della Sbroiavacca per comprare un biglietto aereo ferroviario non ricordo lasciò dimenticò un proprio documento nella nella sede dell'agenzia e lì evidentemente qualcuno sarà stato Gilberto Cavallini avrà preso nota dei nominativi con la data di nascita con il luogo di residenza con il nome e cognome per poter utilizzare un giorno non si sa mai questo nominativo per fare un documento falso perché i NAR erano in una situazione di latitanza per cui latitanza preventiva addirittura ancora prima di essere raggiunti da misure cautelari per sicurezza si davano alla latitanza e quindi nel caso fosse stato necessario Gilberto Cavallini aveva questo nominativo per poter eventualmente intestarlo a qualcuno che ne avesse avuto necessità quindi non può e questo fatto per cui la signora dimentica la smagna dimentica la carta d'identità adesso non mi ricordo nel marzo del 1980 e questo nominativo è un nominativo trevigiano no? perché è di Treviso la signora l'ha dimenticato il documento a Treviso e quindi qualcuno di Treviso avrà preso nota di qualcuno che stava a Treviso avrà preso nota di queste di queste generalità ecco perché il documento il primo documento utilizzato dalla Vambro non può in nessun caso essere quello asseritamente fornito da Sparti Sparti sta a Roma chi c'era a Treviso c'era Gilberto Cavallini che era un loro camerata molto intimo e che gli ospitava quando era necessario nella propria abitazione di Villorme di Treviso dove lui stava con la signora sbroia vacca e il figlioletto con il falso nome Gilberto Cavallini di Gigi Pavato quindi Cavallini aveva una dotazione per falsificare i documenti aveva un kit che poteva consentirgli di falsificare dei documenti e questa è un'altra delle ragioni che impediscono di credere alla versione di Sparti che motivo aveva Valerio Fioravanti di rivolgersi a un delinquente comune come Sparti di cui lui diffidava a Roma costringendolo in fretta e furia a falsificare un documento per la compagna Francesca Mambro quando fino a qualche ora prima era stato a Treviso in casa di Gilberto Cavallini che disponeva di un apparecchio di un apparato che poteva falsificare dei documenti che bisogno avevano di rivolgersi a Sparti ce l'avevano in casa il fornitore eventuale all'occorrenza di documenti falsi del reggimento Cavallini Sparti dice e su questo lui è sempre stato è sempre stato coerente almeno in questo ha sempre detto i documenti mi sono stati chiesti il 4 agosto 1980 io ero in casa mia a Roma Fioravanti e la Mambro sono venuti a casa mia e me l'hanno chiesto in quella circostanza in quell'occasione allora chiediamoci ma dove era Sparti il 4 agosto 1980 era veramente a Roma Sparti Sparti non era a Roma il 4 agosto del 1980 questo ce lo dicono la moglie di Sparti la signora Venanzi la donna di servizio di Sparti la signora Torchia addirittura la madre della signora Venanzi e ce lo dice anche Cristiano Fioravanti ci sono un sacco di persone che ci dicono che il 4 agosto del 1980 Massimo Sparti non era a Roma ce lo dice anche il figlio di Sparti Stefano Sparti loro dicono che all'inizio del mese di agosto del 1980 la famiglia Sparti si era trasferita in un paesino in provincia di Viterbo dove avevano una casa un paesino chiamato Cura di Vetralla da dove poi il 5 o il 6 agosto sarebbero partiti tutti insieme con il macchinone la BMW di Massimo Sparti per fare un giro nel nord Italia a Prato allo Stelvio in montagne lontano da Roma e da Cura di Vetralla loro ci dicono che all'inizio del mese di agosto del 1980 Sparti non era a Roma e allora come ha fatto ad incontrare Mambo e Fioravanti la moglie smentisce Sparti e il figlio smentisce Sparti la donna di servizio smentisce Sparti Cristiano Fioravanti un pentito molto molto ritenuto molto credibile dai magistrati smentisce Sparti dicendo che non era a Roma all'inizio del mese di agosto 1980 avevano un negozio sotto casa una merceria abbigliamento per bambini e all'inizio di agosto il negozio è chiuso il signor Cristiano Fioravanti guardate la bizzarria del caso il signor Cristiano Fioravanti il 2 agosto del 1980 alle ore 19 e 55 la sera quindi del 2 agosto 1980 alle 19 e 55 esce dal carcere di Re Bibbia perché lui è in carcere ed esce proprio il 2 agosto la sera del 2 agosto alle 19 e 55 noi lo sappiamo con certezza perché il dirigente della Digos di Roma Volpiani che richiama una relazione di servizio della Digos del 2 agosto 1980 scrive che Cristiano Fioravanti all'atto della scarcerazione fu seguito fu pedinato da due agenti della Digos di Roma i quali evidentemente volevano controllare dove andasse sai mai che potesse portarli dal fratello che era ricercato quindi è stato disposto un servizio di pedinamento e sappiamo che appena Cristiano esce entra in un bar fa qualche telefonata esce dal bar prende un taxi si fa portare dal taxi nel centro di Roma in via del Tritone dove abitava la famiglia il padre di Fioravanti suona sale qualche minuto poi scende risale sul taxi e a quel punto il servizio di pedinamento trannamente cessa almeno questo è quello che dicono gli atti ufficiali non si capisce perché ma comunque cesso e dove va Cristiano Fioravanti lo sappiamo perché ce lo dice lui Cristiano Fioravanti va a casa di Massimo Sparti sperando di trovarlo perché aveva bisogno di soldi e uscito dal carcere non aveva neanche il denaro per pagare il taxi ecco perché fa la telefonata prima dal bar telefona a casa di Sparti risponde nessuno telefona al negozio di Sparti sotto casa di Sparti e risponde la signora Torchia la donna di servizio della famiglia Sparti che gli dice no guarda che il sor Massimo non c'è sono tutti via sono a cura di vetralla io stessa sto finendo di fare le pulizie in negozio con la mamma della moglie di Sparti stiamo facendo le pulizie chiudiamo tutto e stasera o domattina anche noi andiamo a cura di vetralla perché la famiglia è là e da lì poi partiremo per andare sulle Dolomiti per andare in montagna il Cristiano ha bisogno di quattrine lei dice vieni qua da me fatti portare con il taxi qua da me ti darò io dei soldi così pagherai il taxi e avrai qualcosa in tasca ed è esattamente quello che che succede quindi Cristiano Fioravanti il 2 agosto del 1980 si reca a casa di Sparti e non lo trova il negozio è chiuso stanno facendo le pulizie e trova la Torchia e la la signora l'anziana madre della della moglie di della Venanzi che stanno facendo le pulizie cosa dice la signora Torchia a questo proposito all'udienza divertimentale dell'8 gennaio 1980 mi sembra che notizie sulla strage davanti alla corte d'assise l'appello di Bologna il primo appello testualmente mi sembra che notizie sulla strage io le avessi la sera dopo la chiusura del negozio in casa sempre sempre di sera ricevete una telefonata da Cristiano Fioravanti che mi chiedeva se c'era lo sparti ricordate che Cristiano Fioravanti uscì dal carcere alle 19 55 quindi coincide perfettamente io risposi che era in villeggiatura mi aggiunse che era uscito dal carcere ed era senza soldi va bene dissi io vieni pure qui che ti darò i soldi per il taxi dopo un paio d'ore Cristiano si presentò a casa e mi annunciò che era passato per la clinica dove era ricoverata la madre ed aveva ricevuto da lei il denaro di cui aveva bisogno il 3 agosto io e sempre alla torchia che parla la torchia è la domestica di casa Sparti il 3 agosto io e la madre della signora in treno raggiungemmo il resto della famiglia vetralla la casa di Roma rimase chiusa alla stazione trovammo ad attenderci il signor Sparti il giorno successivo cioè il lunedì lo Sparti sicuramente rimase con noi e così anche il giorno 5 e quelli successivi fino a che dopo qualche giorno tutti partimmo per lo stemio in macchina guidata dallo Sparti peraltro egli non è il tipo che si muove quando è in vacanza punto cosa dice Cristiano Fioravanti il 6 maggio del 1982 avanti il giudice istruttore di Bologna Cristiano Fioravanti dice sono andato da Sparti il 2 agosto 1980 senza però trovarlo c'erano invece la Luciana Torchia e la madre della moglie di Sparti ho invece visto Sparti soltanto nei primi di settembre a casa sua punto andiamo al 22 marzo del 1990 avanti la corte di Assisa d'Appello di Bologna sempre Cristiano Fioravanti quando usci di prigione il 2 agosto 1980 la sera mi presentai a casa dello Sparti dove incontrai la Luciana e la suocera dello Sparti le quali mi dissero che lo Sparti non era Roma ma in un paese o vetralla o campo di mare nei giorni successivi non mi recai a casa di Sparti perché sapevo che non c'era il 5 o 6 agosto mi incontrai con mio fratello Valerio il quale mi comunicò di aver effettuato la rapina di piazza Menemia Grin Sparti ha sempre detto di avere consegnato di avere ricevuto la richiesta di Fioravanti il 4 agosto 1980 e ha sempre detto di essere rimasto a Roma ininterrottamente all'inizio di agosto l'1 il 2 il 3 il 4 il 5 addirittura in un verbale dice che il negozio era aperto anche in agosto e che chiuse solo il 15 agosto c'è anche questa dichiarazione tra le tante che hanno dichiarato Sparti non ce n'è una che sia uguale all'altra Sparti ha sempre detto che all'inizio di agosto era Roma ma Sparti non era Roma perché così dicono i testimoni testimoni veri perché la moglie di Sparti la signora Torchia la domestica dice ma che interesse hanno sostenere una versione piuttosto che un'altra loro sì che sono lì i testimoni loro non hanno nessun interesse in capitolo non devono collaborare con l'autorità giudiziaria per scampare una condanna o una situazione di disagio personale possono dire quello che sanno senza problemi per quale motivo avrebbero dovuto mentire Sparti avrebbe potuto mentire per guadagnarsi delle benemerenze lo sappiamo l'abbiamo detto aveva un interesse astratto a farlo e lo ha fatto per quello ma la moglie di Sparti la domestica di Sparti lo stesso Cristiano Fioravanti che interesse avevano a dire una cosa anziché un'altra quali conclusioni possiamo incominciare a trarre da queste considerazioni le mie sono considerazioni personali sono considerazioni difensive possono essere risattese possono essere approvate oppure possono essere contraddette ma io ho citato degli atti io ho citato degli atti ho citato delle dichiarazioni rese davanti all'autorità giudiziaria ho citato dei rapporti delle relazioni cioè ho fatto dei riferimenti oggettivi che possono essere forse stati un po' noiosi per l'ascoltatore ma servono ad ancorare le valutazioni a dei dati giudiziari certi inoppugnabili questo è quello che c'è agli atti del processo e le sentenze si decidono sulla base di quello che c'è agli atti quod non est in actis non est de hoc mundo come dicevano noi nel latinorum si deve decidere su queste basi su tutto in base a tutto quello che fino ad ora abbiamo detto e non è e non è tutto ancora perché abbiamo altri argomenti per sviscerare fino in fondo come dobbiamo la questione di Sparti è credibile Sparti quando dice di avere ricevuto la visita di Fioravanti che voleva a tutti i costi un documento falso per la Mambro possiamo aderire alla valutazione del giudice che condanna l'ergastolo Mambro e Fioravanti dicendo Sparti è riscontrato perché soltanto a partire dal 5 agosto la Mambro ha potuto andare in albergo all'hotel Cicerone e fornire i propri documenti d'identità quando abbiamo visto che questo è documentalmente smentito dai registri dell'hotel Cicerone che sono stati acquisiti soltanto nell'ambito del processo Ciavardini davanti alla Corte davanti al Tribunale dei Minorenni quindi soltanto nel processo in atto nel milano del dibattimento sorto nel 97 finito nel 2000 sono stati acquisiti dallo stesso pubblico ministero di quel processo dottor Serpi il dottor Serpi magistrato di grande lealtà ecco possiamo dire su queste basi che il racconto di Sparti è riscontrato ma non è finita che dobbiamo andare avanti fino in fondo abbiamo detto che il primo documento falso che durante la latitanza Francesca Mambro ha utilizzato era il documento intestato a Morena Smania abbiamo visto che questo nominativo nasce a Treviso Morena Smania è di Treviso ha acquistato qualcosa nella agenzia di viaggi della famiglia Sbroia Vacca ha dimenticato un documento di identità che poi è venuta a riprendere il giorno dopo è stata ascoltata come testimone stiamo parlando del marzo del 1980 cioè parecchi mesi prima dell'attentato di Bologna quindi questo documento ha origine trevigiana a Treviso stava Gilberto Cavallini che aveva un kit per falsificare documenti non c'era nessun bisogno di rivolgersi ad estranei soprattutto soggetti del milieu della malavita comune romana come Massimo Sparti quindi soggetti anche infiti e di cui Fioravanti di cui Valerio Fioravanti non si fidava e con il quale non era in buoni rapporti Cristiano Fioravanti sì che era in buoni rapporti in ottimi rapporti con Massimo Sparti ma non il fratello Valerio maggiore ragione quindi per non chiedere un favore di questa delicatezza a uno come Massimo Sparti tra l'altro dicendogli anche che eri passato per Bologna che avevi paura di essere stato riconosciuto e che eri vestito da turista tedesco alla tirolese ecco cose di questo tipo e poi è questo il succo della dichiarazione di Sparti è questo quali documenti ha utilizzato Francesca Mambro nel corso della sua latitanza in fondo la latitanza della Mambro dura meno di due anni perché nasce formalmente alla fine di agosto del 1980 con l'ordine di cattura della procura di Bologna e finisce nel 1989 nel marzo dell'82 quando la Mambro gravemente ferita viene ricoverata in ospedale a Roma quindi meno di due anni in meno di due anni la Mambro si è seduita di alcuni documenti falsi il primo è quello di cui abbiamo già parlato intestato a Morena Sbagna ma i documenti falsi nel corso di una latitanza devono essere cambiati abbastanza frequentemente per sicurezza tanto è vero che a un certo punto la Mambro comincia ad utilizzare un altro documento falso intestato a una certa Irene de Angelis Irene de Angelis anche qui è un documento che risale all'81 non all'81 quindi parecchi mesi dopo la visita presunta a Massimo Sparti e chi è Irene de Angelis? è una persona realmente esistente chi era o chi è forse non lo so se sarà ancora viva era la donna di servizio di un amico della Mambro un altro ragazzo un altro giovane che viveva nell'ambiente dell'estrema destra romana e che si chiama Riccardo Brugia o Brugia di Irene de Angelis era la sua donna di servizio e Brugia ha preso le sue generalità e le ha utilizzate e le ha fornite alla Mambro per poter avere un documento falso anche questo documento non è stato minimamente attinto dalla sapiente opera di Massimo Sparti non c'entra nulla con Massimo Sparti non tornano i tempi non torna niente l'ultimo documento di cui però non c'è certezza ma che compare in alcune relazioni di polizia si riferisce agli ultimi mesi alle ultime settimane di latitanza della Mambro prima dell'arresto nel marzo del 1982 ed è un documento intestato a una certa Elena Giannini però io nelle carte del processo non ho mai trovato la fotocopia di questo documento quindi è possibile non è possibile lo so sinceramente non so se sia vero se sia un'indicazione che corrisponda a verità in ogni caso stiamo parlando del 1982 degli ultimi mesi dell'81 primi mesi dell'82 è già passato un anno e mezzo dalla data del 4 agosto 1980 in cui ci sarebbe stata la richiesta dei documenti a Sparti quindi non è pensabile che anche quest'ultimo documento sia quello a suo tempo fornito da Sparti quasi due anni prima non avrebbe senso tenercelo e non utilizzarlo quindi questi sono gli unici tre documenti falsi di cui si è servita Francesca Mambro possiamo dire ragionevolmente almeno questa è una mia valutazione ma credo che non sia facilmente contrastabile che nessuno dei documenti falsi realmente utilizzati dalla Mambro cioè di cui la Mambro aveva la disponibilità può essere fatto risalire all'opera all'attività di Massimo Sparti chiusiamo sulla credibilità del racconto di Sparti e sulle numerose contraddizioni e cambiamenti di versione che il racconto dell'uomo consente consente di individuare nel suo nel suo lire Sparti dice nelle sue prime dichiarazioni l'indici quattro del 1981 abbiamo visto le dichiarazioni partono da quella data quindi un verbale importantissimo quello dell'undici aprile 1981 si dice la verità incomincia a dirla ora dice tutto in quel momento se è la verità lui dice che fioravanti il giorno successivo al 4 cioè il 5 agosto all'atto di literare i documenti gli disse che lui e la Mambro sarebbero dovuti partire immediatamente per recarsi in Sicilia nel verbale scritto questo il 13 maggio del 1981 secondo interrogatorio Sparti ribadisce la circostanza è ancora più preciso vi leggo le parole di Sparti intorno alle ore 15 del 4 agosto 1980 Valerio e una ragazza che questi al momento non mi presentò vennero a casa mia con una richiesta precisa Valerio aveva urgente bisogno di procurarsi una carta d'identità ed una patente per la ragazza ed aggiunse che si trattava di una questione urgentissima perché doveva assolutamente partire per la Sicilia fermiamoci un attimo Sparti è molto molto chiaro in questo racconto no? mi dice che mi ha detto che dovevano partire assolutamente per la Sicilia avevano bisogno di documenti falsi noi sappiamo sulla base della ricostruzione di quel periodo di tutti i movimenti della Mambrio di Fioravanti che costoro non si sono recati in Sicilia in agosto il 5 agosto c'è la rapina in piazza Menemio Agrippa dal 5 agosto al 7 agosto dormono all'hotel Cicerone sono registrati all'hotel Cicerone meglio è registrato soltanto Fioravanti con il suo falso nome di Flavio Caggiura c'è anche Cavallini dal 5 al 7 agosto con il falso nome all'hotel Cicerone e poi tornano a Treviso tornano a Treviso perché era il posto dove Cavallini poteva ospitarli non sapendo dove andare anche perché devono nascondere le armi rapinate in piazza Menemio Agrippa l'armeria di piazza Menemio Agrippa e non avendo un posto questa organizzazione terroristica terribile finanziata a suon di milioni e milioni di dollari da Alicio Gelli e dalla P2 non aveva neanche un posto dove custodire o nascondere le armi rapinate nelle armerie vanno a Treviso e non avendo un luogo dove nascondere le armi che cosa fanno? Cello fanno le chiuno con anticipienti ignifughi e li mettono nel canale scaricatore di Padova cioè dentro nell'acqua sott'acqua mettono questi sacchi pieni di armi ben chiusi naturalmente le mettono dentro l'acqua il canale scaricatore di Padova dove poi qualche mese dopo nel febbraio del 1981 proprio all'atto di recuperare le armi che erano state nascoste lì le armi della della rapina di piazza Menemio Agrippa e forse anche altre all'atto di recuperare queste armi Fioravanti Fioravanti Lamambo Cavallini Sodderini e Cristiano Fioravanti hanno il conflitto a fuoco con una pattuglia di carabinieri e due carabinieri vengono uccisi e Fioravanti rimane gravemente ferito viene ricoverato in ospedale operato d'urgenza e arrestato e arrestato quindi tornano a Treviso all'inizio di agosto del 1980 tra l'altro la stessa signora Brunelli la madre della sbroia vacca cioè della compagna di di Cavallini dirà di ricordare che fino almeno a Ferragosto i due giovani romani erano a Treviso fino a quella data e poi dopo cosa dove vanno quali sono i loro movimenti loro vanno a Gandoli in Puglia perché in Puglia c'era stata è stata affittata una casa che doveva servire per l'evasione di Concutelli a cui loro lavoravano da mesi quindi esistono degli elementi pacifici indiscutibili documentali che attestano che nel mese di agosto Mambro e Fioravanti non erano non erano in Sicilia dove peraltro non avevano nessun motivo di recarsi visto che erano stati cacciati in malo modo alla fine di luglio nei mangiamenti per cui l'indicazione che ci dà il signor Massimo Sparti nelle sue prime due dichiarazioni 11.481 e 13.581 è un'indicazione sbagliata errada il 16 novembre dell'81 Sparti ribadisce di avere conosciuto la Mambro soltanto nell'agosto 1980 come aveva già detto nelle prime due derogatori quando Valerio gli venne a chiedere di procurare i dei documenti però dopo nove anni l'8 gennaio del 1990 davanti alla corte d'assise d'appello di Bologna quindi in pieno in pubblico di battimento Sparti cambia versione e dice la Mambro penso di averla vista una o due volte prima del 4 agosto 1980 pagina 3 del verbale d'udienza perché Sparti cambia versione è perché messo alle strette da Valerio Fioravanti con il quale quel giorno viene posto a confronto cioè confronto fra Valerio Fioravanti e Massimo Sparti e Fioravanti gli fa presente che non è vero che lui abbia conosciuto Francesca Mambro soltanto il 4 agosto del 1980 lui la Mambro la conosceva già perché qualche mese prima nel mese di aprile del 1980 Valerio Fioravanti andò a pranzo a casa di Massimo Sparti e gli presentò la ragazza per quale motivo all'inizio di aprile del 1980 Fioravanti va a casa di Sparti insieme con la Mambro vi era presente in quella circostanza cosa va a fare va a chiedergli un'automobile Fioravanti aveva bisogno di un'automobile per poter andare dove? in Sicilia in Sicilia ma nell'aprile 80 non nell'agosto del 1980 gli serviva un'automobile per andarsi per andare in Sicilia ma questo Sparti non l'ha detto all'inizio lo dice soltanto perché è pressato dal confronto che sta facendo con Fioravanti e a quel punto all'udienza dell'8 gennaio del 1990 Sparti è costretto a dire sì è probabile che ci sia stata la Mambro nell'aprile non lo escludo arriviamo al 1997 all'udienza del 15 luglio davanti al tribunale dei minorenni di Bologna dove Sparti ammette di avere ricevuto all'inizio dell'aprile del 1980 la visita del Fioravanti della Mambro pagina 125 del verbale di Urienza riconosce di avere conosciuto la ragazza in quella circostanza domanda quindi nel mese di aprile del 1980 quindi lei conobbe Francesca Mambro prima del 4 agosto risposta di Sparti ma l'ho detto che l'avevo conosciuta apposta che io ho detto il fatto dei capelli perché io l'ho vista prima però non frequentemente l'avrò vista una volta o due però ho notato che i capelli erano diversi domanda si ricorda se restarono a pranzo a casa sua risposta forse sì boh non lo so intervento del presidente non ricorda domanda non ricordo se fu per caso in quell'occasione cioè in occasione del suo primo incontro con la Mambro che Fioravanti le fece quel discorso in cui le disse ho incontrato la donna della mia vita prima stava con un imbecille coraggiosa brava leale risposta può darsi domanda non si ricorda se fu in quell'occasione in aprile risposta questo non può darsi pure che si riferisce a questo episodio a questo incontro e non al secondo può darsi pure ma non lo so non mi sembra domanda comunque non lo esclude risposta non lo escludo penso però più il 4 agosto che non aprile vedete come è contorto sinusoidale il comportamento di Sparti anche su circostanze che possono non apparire decisive ma che comunque lo sono nel tessuto del suo racconto dice una cosa poi dopo se la rimangia poi ci ritorna sopra poi dice non lo so può darsi mi sembra che questo sia un racconto corretto sia un racconto lineare sia un racconto di cui ci si può fidare sia un racconto privo di quelle contraddizioni che invece sono un parametro fondamentale per misurare l'attendibilità la credibilità di un soggetto anche su questo episodio della Sicilia della prima data in cui ha conosciuto Francesca Mambro lui ha taciuto per anni è stato costretto ad ammetterla soltanto dopo che Fioravanti lo ha messo alle strette durante un confronto al dibattimento del 1990 in questa terza puntata abbiamo continuato ad analizzare la qualità e la portata probatoria delle dichiarazioni di Massimo Sparti e ormai senza stupirci più abbiamo svelato altri particolari che enfatizzano la sempre più sorprendente faraginosità di tali dichiarazioni le sentenze si decidono in base a quello che c'è agli atti e l'avvocato Alessandro Pellegrini ha continuato il suo esame critico delle fonti citando dichiarazioni rese davanti all'autorità giudiziaria rapporti relazioni riferimenti oggettivi che servono ad ancorare le valutazioni adatti giudiziari certi e inoppugnabili val la pena qui richiamare alcuni passaggi di questa puntata affinché restano impressi nella mente di chi ci ascolta lo faremo ponendo una serie di domande perché le deposizioni della signora Torchia donna di servizio di casa Sparti quelle della suocera e della moglie di Sparti le quali hanno unanimemente sostenuto che in quei primi giorni dell'agosto 1980 Massimo Sparti non poteva essere a Roma bensì a cura di Vetralla nel Viterbese in procinto di partire con l'intera famiglia per una vacanza al passo dello Stelvio sono state ritenute non degne di nota dai magistrati Cristiano Fioravanti fratello di Valerio pentito e collaboratore di giustizia ha dichiarato che appena uscito dal carcere nella tarda serata del 2 agosto 1980 proprio il giorno della strage aveva cercato di incontrare a Roma Massimo Sparti ma era riuscito solo a parlare con la donna di servizio la signora Torchia la quale stava chiudendo l'appartamento romano per raggiungere la famiglia Sparti a cura di Vetralla dunque anche Massimo sarebbe stato a cura di Vetralla perché anche questa testimonianza non è stata accolta dai magistrati perché quando Sparti è stato costretto durante il confronto con Valerio Fioravanti ad ammettere di aver conosciuto Francesca Mambro non il 4 agosto 1980 come dichiarato nella sua prima deposizione dell'11 aprile 1981 bensì di averla vista già almeno nell'aprile precedente i magistrati hanno sorvolato anziché soffermarsi su questo particolare che rappresenta comunque un ennesimo elemento che mette in dubbio la sua credibilità perché Mambro e Fioravanti sapendo che Gilberto Cavallini con cui proprio in quei giorni condividevano la casa della fidanzata di questi a Villorba di Treviso disponeva di un kit per la fabbricazione di documenti falsi non hanno pensato di usufruirne e hanno deciso viceversa di rivolgersi ad un delinquente comune come Sparti tenendo conto anche della scarsa stima che avevano e di fidenza che nutrivano nei confronti di Sparti va infine ricordata la topica in punto di fatto dei giudici della corte d'assise d'appello di Bologna in sede di rinvio 16 maggio 1994 i quali sostengono che la notte del 5 agosto proprio in virtù del documento fresco ricevuto da Sparti la Mambro poté pernotare all'hotel Cicerone di Roma con Valerio Fioravanti il quale utilizzava la falsa identità di Flavio Caggiula e con Gilberto Cavallini alias Giovanni Bottacin tutti e tre reduci dalla rapina all'armeria Fabbrini di piazza Menegno Agrippa a Montesacro compiuta quello stesso pomeriggio in realtà nessuna donna riconducibile a Francesca risulta nei registi dell'hotel Cicerone confermando quanto hanno sempre sostenuto in ar ovvero che la Mambro quella notte si era introdotta di nascosto nella stanza di Valerio proprio perché è priva di documenti falsi il problema è che la corte di Cassazione che condannerà definitivamente Mambro Fioravanti fece sua questa falsa indicazione la utilizzò come un riscontro di ciò che volevano dimostrare ovvero che il documento fornito da Sparti era immediatamente servito alla Mambro quello stesso giorno appena consegnato abbiamo visto che questa fondamentale decisione della corte fu possibile solo perché i registi dell'hotel Cicerone che smentiscono quanto affermato dai giudici di Bologna saranno incredibilmente acquisiti solo nell'ambito del processo Ciavardini davanti al Tribunale dei Minorenni che si svolse tra 1997 e 2000 questi in estrema sintesi alcuni passi salienti di questa puntata che avete appena visto ma anche se pare impossibile da credere nonostante il chiodo Sparti sia stato già analizzato in profondità in queste prime tre puntate non è ancora finita non mancheranno altre sorprese vi invito pertanto a seguirci a mettere un like se il video vi è piaciuto ma soprattutto a iscrivervi gratuitamente al canale se già non l'avete fatto chi poi volesse eventualmente sostenere materialmente il canale e il nostro lavoro lo potrà fare abbonandosi al costo di nemmeno un paio di caffè al mese vi ringrazio per l'attenzione e vi invio un cordialissimo saluto a presto no no